Proprio lui costretto ad abbandonare il programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi, il docente più amato nella storia di amici lascia definitamente il talent. Ecco tutti i dettagli a riguardo e soprattutto di chi si tratta effettivamente. Come ben saprete il rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi ottiene in ogni edizione un numero di ascolti particolarmente esorbitante. Ogni telespettatore che con perseveranza segue attentamente ogni dinamica che accade all'intento dello studio è entusiasta di venire a conoscenza di tutti i dettagli più succulenti. Questa volta però, questo singola notizia, ha letteralmente spiazzato il pubblico italiano. I fan del talent appunto sono rimasti particolarmente sconvolti nell'apprendere e metabolizzare l'allontanamento di uno dei docenti più amati nella storia del programma. Tutti coloro che decidono di intraprendere un percorso all'interno del talent appunto hanno un solo obiettivo in mente, ovvero quello di raggiungere i propri scopi aumentando la propria notorietà o semplicemente creandosi un nome nel mondo del canto e del ballo. Ovviamente tutti i professori che prendono parte al programma vedono la loro partecipazione in modo completamente diverso, ognuno di loro ha il compito di trasmettere la propria passione a chi hanno davanti. Proprio per questo motivo appunto, molti di loro sono facilmente distinguibili. Ogni professore adotta ovviamente un metodo completamente diverso e per questo i giovani talenti si suddividono in squadre, così che ognuno di loro venga seguito da chi più lo rappresenta. Proprio lui costretto ad abbandonare amici, il programma di Maria De Filippi lascia a casa uno dei docenti più apprezzati come vi abbiamo già anticipato precedentemente il rinomato programma televisivo, consente a tutti coloro che lo desiderano di inseguire i propri sogni. Proprio per questo appunto i professori devono essere esperti nel campo e devono soprattutto amare il proprio lavoro. Nella stria dei professori del programma, un docente in particolare ha attirato incredibilmente l'attenzione del pubblico diventando uno dei professori più apprezzati. Stiamo indubbiamente parlando di Kledi Cadiu, il famoso ballerino conosciuto in tutto il mondo. Lui per diverso tempo ha ricoperto un ruolo incredibilmente fondamentale per il programma e per i giovani talenti. Con il passare del tempo però, con situazioni familiari completamente diverse, si è reso conto che non avrebbe mai più potuto dedicare un numero eccessivo di ore al proprio lavoro proprio per via dell'arrivo di una figlia. Quando è arrivata la mia prima figlia non potevo più dedicare 24 ore al giorno al lavoro come facevo prima. Queste sono appunto le parole dette da lui stesso per giustificare le sue distanze dal programma. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Grazie per aver guardato il video.